Qua ci serve solo uno che ne capisce di computer e facciami i soldi. Cosa vuoi? Vogliamo aprire un'agenzia turistica di vacanze estreme. Ma non estreme normali, estreme assai. Offriamo rapimenti. Annoiato delle solite vacanze? Veni in Calabria? E fatti in Ramire! Viagra Calabrese! Non parte! Voglio possederti come un animale. Mantenere il glande fuori dall'acqua a modi isolotti. Si può sapere chi cazzo avete rapito? Come chi? Pedro. Io non rapito, è Pedro sbagliato! Siete veramente degli idioti. Quando si fa una minchiata, si provvede a ripagare la minchiata. E una minchiata non ripagata rimane un debito della minchia. Mister minchia! Che ne dici di un colpo in testa? Non ne preferisci tutti. Moriremo tutti. Cazzurino. Giugge al muro! This is original sequestro Calabrese. Quanto devo chiederli? Chiedi un milione di lire. Die euro. Die euro, dai die euro.